La Banca d'Italia La Banca d'Italia Leggendo gli articoli riportati sullo statuto, troviamo che gli stessi proprietari eleggono un consiglio superiore, il quale addirittura indica al consiglio dei ministri chi si è gradito come governatore della banca, ottenendo così proprietà in quote, amministrazione e controllo della banca stessa. Ma la Banca d'Italia non risponde delle sue azioni al Parlamento. Da questo decreto del 2006 leggiamo che l'attuale obbligo si limita nel trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta.